Bebe, quando siamo... ...seganno che c'è un indivisio? Prendiamo la mia idea... No, 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 no. No c'è la sua direzione a chi? Ma la sua direzione a chi non c'è questo? E vieni a chi c'è la sua direzione a chi? Mi sono state in alto? Non è in alto? Non è in alto? Non è in alto? Sì Non stai a cercare la scuola di campion grazie a tutti perci perci lega thrash ufff bach di casca Si, 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 si Ehi Cris, il caffè è il barato. Voi frizzare? Ehm, c'è due matrimoni, l'ultano è il bronzo. E' il maicolo, c'è che c'è che c'è Stattica ah ti bleb tu stacchi lukerco Grazie a tutti 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 Grazie a tutti